buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale ragazzi con la v maiuscola oggi parlerò di risponderò ad una signora che mi chiede dottore ma quali mp3 scelgo per mia figlia perché ha un problema di apatia tristezza depressione panico un po di tutto io le ho detto signora nel sottoscritto neanche gli associati dell'associazione i prolegi associati facciamo diagnosi di nessun tipo ne facciamo cure né terapie per cui deve andare dal suo medico o che si trovi a parigi a milano a londra a los angeles o dallo specialista della salute farsi fare una diagnosi dopodiché sarà lei a scegliere gli audio mp3 che fanno che va fanno al caso di sua figlia oppure del suo se caso male vuole utilizzare anche lei però di solito se una persona ha depressione o immagino o gliel'hanno detto o gliel'hanno diagnosticato sta alla persona a dire ok io scarico ed utilizzo l'audio mp3 dal titolo no depressione poi voglio mettere anche no panico perché oltre alla tristezza la depressione mia figlia sente anche paure ansie perché di solito la depressione è agganciata anche all'ansia e quindi mi scarico anche no panico poi magari siccome mia figlia pensa sempre al passato mi scarico anche no passato negativo oppure mia figlia anche quando si si sveglia dal suo torpore dalla sua patia dalla sua depressione si stressa si nervosisce in maniera incredibile allora si scarica anche molto controllo dei nervi non stress ok e così via discorrendo dopodiché magari può passare ad ego entusiasmo che dà un'energia incredibile e fa camminare sulle acque chi utilizza l'audio mp3 dicesse dal titolo no ego entusiasmo allora è logico che uno può scegliere o accelerare il tutto e arrivare all'obiettivo di trovare la soluzione in pochissimo tempo scaricando e caricando sul proprio cellulare computer o lettore mp3 esterno più audio mp3 quindi accelera perché ogni audio risolve un problema alla volta ok sono creati ad arte tutte queste parole del sottoscritto le suggestioni dicesse che provengono ripeto ancora una volta da los angeles da più di 70 anni di esperienza da due grandi il professor dottor michelanghelgarai della dottoressa rina brunini parole audio mp3 in cui c'è il 20 25 30 per cento del sottoscritto perché io mi auto improdito ragazzi dal 2008 ad oggi quindi da più di 12 anni ho aiutato centinaia di persone nel mondo e ti posso garantire che queste suggestioni sono uniche al mondo hanno quasi un secolo di antico sapere che non trovi in giro ti puoi scapicollare ecco perché costano moltissimo infatti il sottoscritto è il più caro dei cari al mondo perché ho constatato su di degli effetti benefici se uno segue le istruzioni molto facili a prova di nonna a prova di pigro a prova di idiota e rinunciare sinceramente ad una colazione al giorno per 30 giorni per cambiare vita per risolvere un problema non credo che sia la fine del mondo poi ripeto ancora una volta rispondendo a questa signora e a sua figlia perché il metodo di cs l'improsio di cs vera e professionale funziona anche per chi non vuole essere aiutato né online né offline né da qualche guru può se vuole accelerare il suo problema scaricarsi più audio metterli tutti in una cartella e farli girare seguendo la lettera e l'istruzione come indicato nelle istruzioni molto facili anche un'altra signora che ha il figlio alcolizzato anche lei mi ha chiesto dottore ma che cosa mi scarico siete voi che dovete in base a quello che vedete capire quali audio scaricarvi è logico che se uno scarica più di un audio no cambierà la situazione da così a così sia la propria che quella del proprio caro è scontato ragazzi io di solito quando ho un problema faccio mettere 4 5 audio li faccio girare insieme come un cocktail come una miscela una miscela veramente potente energetica un altro signore ha detto sì ma come fa il controllo dello stress a sposarsi con l'ego entusiasmo si sposa perché tu inizi dal controllo dello stress e poi poi si allego entusiasmo prima svuoti il famoso bicchiere poi lo riempi di energia ok però ricordati anche con un solo audio mp13s tu te ne esci non c'è bisogno di comprarne o di di scaricarne 4 5 6 o 10 anche con un solo inizia da uno solo come consiglio sempre così risparmi così vedi l'energia e poi dopo prosegui prosegui perché la vita è un continuum però ricordati che l'ipro si dicesse non ti ruba tempo non ruba tempo al tuo caro a te stessa a te stesso per cui zero tempo non ti fa mettere la famosa tuta non ti fa andare in palestra ok e ti aiuta a risolvere il problema se segui la lettera e le istruzioni che ripeto ancora una volta sono molto facili a prova di nonno a prova di pigro a prova di idiota non devi credere neanche ad una parola del sottoscritto devi soltanto fare 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 per cui vai sul sito internet www.impronologiassociati.com gestito dalla mia associazione i pronologi associati di los angeles baby deals ti scegli quello che può fare per te magari inizi dal primo audio mp3 quando senti nel tuo corpo nella tua mente nella tua vita risultati incredibili ed esclamerai wow già mi sento più rilassata più rilassato più sta cambiando il mio punto di vista la mia visione della vita oppure del tuo caro che ti sta abbracciando che ti sta chiedendo aiuto che ti scambia una parola rispetto a prima dove non potevi neanche dire che begli occhi che hai che ti mandava a quel paese beh allora in quel momento inizi a capire che magari con un altro audio mp3 puoi ottenere più risultati oppure perseverando con lo stesso audio io te lo dico con il cuore in mano ragazzi il mio compito non è quello di vendere perché non sto qui a vendere per tanti motivi perché ho ceduto i diritti all'associazione i pronologi associati sono qui soltanto per diffondere il mio metodo di cs di prosi di cs vera e professionale questa è la mia mission finché sono su questa terra finché faccio l'ultimo dei miei respiri finché faccio l'ultimo dei miei passi finché parlo l'ultimo delle mie parole il mio compito è diffondere questo metodo incredibile che ha cambiato la mia vita a centinaia e centinaia di persone nel mondo però ti faccio ti prego ti faccio una preghiera in ginocchio anche se tu adesso hai scaricato un audio mp3 persevera continua non ti fermare butta via orologio calendario tempo non è richiesto non ti ruba neanche un secondo del tuo tempo buttalo e fai azione persevera persevera gutta cavat lapidem la goccia che cava erode rende sabbia la roccia più dura di questa terra ecco il mio metodo come funziona e siccome non ruba tempo né te né il tuo caro ma che ti importa fai 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 funziona funziona e non per tirarmela questo metodo è stato usato anche da molti personaggi famosi di hollywood los angeles beverly hills che naturalmente non sto qui a fare nomi perché non mi riguarda riguarda l'associazione i progetti associati e ha aiutato tantissima migliaia di persone bisognose a los angeles perché se tu non lo sapessi los angeles ha molte persone bisognose di estrazione ispanica e in tutta l'america latina per cui se ti dico che funziona e che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi shock l'ipnosi conformista e commerciale qual è l'ipnosi conformista e commerciale quelle che trovi in giro da tutte le parti infatti ci sono molti audio a 0 euro gratis che li chiamano di meditazione e audio a pochi spicci 10 20 dollari ma che non servono a nulla ragazzi non servono a nulla danno effetti temporanei e non duraturi devi dare il tuo tempo devi mettergli auricolari ti ruba tempo lo fai per un po di tempo e poi dopo siccome la maggior parte pigra abbandona tu dici come fai sapere queste cose perché io sono partito tantissimi anni fa da ipnotista autodidatta le ho provate tutte ipnotizzavo sulla spiaggia nei bar sulle strade di tutto il mondo anche 10 20 alla volta fregandomene di chi si metteva a ridere ok per cui e notavo queste differenze quando sono arrivato nel 2008 a causa di una disgrazia è capitata a mio padre di un ictus fulminante conoscendo la dottoressa lina brunini su skype online che ha salvato mio padre il quale è campato per altri dieci anni paralizzato per la metà del suo corpo bene lì ho esclamato wow dove ero stato fino a quel momento ok come lo dico dico come come di cui parlo anche nei miei tantissimi video e anche nel mio libro fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottore claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che cambierà la tua vita quella del tuo caro e anche te che pensi di essere il top esperto di ipnosi che sai tutto di più bene mai dire mai nella vita ok e poi seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottore claudio saracino alla prossima un bacio un abbraccio